Grazie mille, mio nome è Richard Gage dell'AIA, faccio l'architetto da 20 anni e sono membro dell'Associazione Americana Architetti. Stasera vi presenteremo la verità tecnica, le prove trovate in merito alla demolizione da esplosivi delle cadute di tutti e tre gli edifici del World Trade Center, le torri gemelle diventate ormai un'icona e il Palazzo 7. Questa è una demolizione controllata. Focalizziamoci prima su questo crollo. Abbiamo centinaia di esempi da ogni parte del paese da cui facciamo i nostri confronti, perché è il metodo di demolizione più usato per costruzioni alte. Questo è quello che deriva dalla demolizione di un grattacielo demolito da esplosivi. Diamo un'occhiata alle principali caratteristiche di una demolizione controllata. All'inizio abbiamo una serie di subitane esplosioni alla base della struttura. Abbiamo una caduta simmetrica sulla propria base, perché l'onda d'urto elimina il sostegno dei pilastri, provocando una caduta con accelerazione da caduta libera attraverso una traiettoria che sarebbe quella di massima resistenza. Migliaia di tonnellate di infrastruttura d'acciaio, un totale smembramento dell'infrastruttura d'acciaio pronta per il trasporto e danno minimo alle costruzioni vicine, rumori e lampi di esplosione, sentiti e visti da testimoni, nuvole enormi di cemento polverizzato e getti di polveri isolati ad alta velocità. e prove chimiche di cariche da taglio. Sono tutte abbastanza tipiche e costituiscono prova diretta o indiretta di demolizione degli esplosivi, ma la cosa interessante è che nessuna delle caratteristiche tipiche delle demolizioni controllate può essere spiegata o attribuita dal fuoco. Figuriamoci tutte e dieci insieme. Mostreremo inoltre documentazione ufficiale del governo, commenti di esperti, conoscenze avanzate e documentazione video, tutte a sostegno dell'ipotesi di demolizione controllata, a sostegno di una prova oltre ogni ragionevole dubbio. Diamo un'occhiata al Palazzo 7 adesso. Era di 47 piani. Sarebbe stato il palazzo più alto in 33 dei nostri stati. Non è stato colpito da un aereo. È stato il terzo grattacielo a crollare l'11 settembre circa alle 5.20. Qui vediamo il fuoco al dodicesimo e al tredicesimo piano e al settimo sul lato nord, il lato opposto a quello che fu colpito dai detriti della torre nord. Ora diamo un'occhiata a quanto è evidente nel World Trade Center 7 e vediamo come si rapporta alle caratteristiche tipiche di una demolizione controllata. C'è un inizio immediato di distruzione? Sentiamo i soccorritori. Stavamo osservando il palazzo in realtà perché c'era del fuoco. I piani inferiori erano in fiamme ed ecco sentiamo questo suono come un tuono. Ci siamo girati e siamo rimasti di sasso a vedere che, beh, sembrava come se un'onda d'urto attraversasse il palazzo portandosi via tutte le finestre. Orribile. A quel punto, sai, circa un secondo dopo il piano terra è crollato e subito dopo il palazzo a seguire. E abbiamo visto il palazzo crollare dritto e dritto verso terra. Un tuono, un'onda d'urto attraverso il palazzo? Finestre rotte e poi il palazzo che casca giù? C'è una caduta simmetrica dritta sulla propria pianta? Ascoltiamo Dan Rather che ci narra questo crollo la prima volta che vediamo il palazzo 7 cadere. E quello che vedete sono colpi forti. Ora vi mostriamo una cassetta del crollo. Ora vediamo l'amo viola e il crollo del palazzo. Incredibile. Supefacente. Incredibile. Scegliete voi il termine che preferite. La terza volta oggi. Ci ricorda le immagini che abbiamo già visto fin troppe volte oggi, quando un palazzo viene deliberatamente distrutto da carichi di dinamito opportunamente piazzate. Facciamo un confronto con una demolizione controllata, sulla destra. Il palazzo è crollato sulla propria pianta? Sembra proprio di sì. Ci sono onde di demolizione? E come fanno a rimuovere i pilastri portanti? Beh, ecco qui la pianta del piano terra del building 7. Ora, per far sì che un palazzo caschi simmetricamente, esattamente sulla propria pianta, senza cadere di lato. Quello che serve è rimuovere i pilastri portanti. Perché lo scopo che si cerchi di ottenere è che l'esterno della costruzione caschi su se stessa. Questo richiede un alto grado di precisione che il fuoco non possiede. C'è un'accelerazione vicina a quella di caduta libera lungo quella che era la traiettoria di massima resistenza. Potete osservare che, come di secondo in secondo, il palazzo aumenta velocità verso il basso. Si può tracciare lo spazio percorso in un grafico sul tempo e si vede che è esattamente un moto in caduta libera. Che significa questo? Che i pilastri dovevano essere eliminati e nello stesso momento, su ogni piano, in modo sincronizzato. In modo da non offrire alcuna resistenza nella caduta. Abbiamo una scomposizione completa del telaio di acciaio? Abbiamo un grattacielo di 47 piani ridotto a 4. Abbiamo anche i rumori delle esplosioni? Cosa mi dite di Kevin McBadden? Questo era proprio baboom e si è sentito il terreno a tremare. Ti veniva da aggrapparti a qualcosa. Per me era un'esplosione, non c'è alcun dubbio a riguardo. Abbiamo enormi nuvole di fumo piroclastico di cemento polverizzato? Osservate il cemento nell'aria che invade tutte le strade in ogni direzione, alla velocità di 55 km all'ora. Abbiamo pozze di metallo fuso? Partiamo dalla Torre Sud adesso. Questa parte riguarda sia le Torri Gemelle che il Palazzo 7. Ci è stato detto dal NIST che questa sostanza deve essere l'alluminio fuso degli aerei. Ma di solito l'alluminio fuso si presenta come alluminio fuso. È argenteo. Non ardi alla luce del giorno. Cosa dicono i primi soccorritori e gli esperti di demolizioni sul metallo fuso? Videro vasche di acciaio fuso, metallo fuso, travi che erano completamente fuse. Stava gocciolando dall'acciaio fuso. L'acciaio fluiva in flussi fusi. Stanno trovando acciaio fuso. E questo ingegnere civile al Bolasan Astaneasi di Berkeley ha visto e riferisce o visto le travi fuse al World Trade Center. Uno dei più strani manufatti che emergono dalle macerie è questo oggetto simile a roccia che è diventato noto come il meteorite. Questo è acciaio fuso. Acciaio fuso e cemento e robe di questo genere. Tutto fuso insieme dal calore. Architetti, ingegneri, gente che ha a che fare con l'acciaio, non lo ha mai visto ridotto, così distrutto e così deformato in tutta la loro vita. Qual è il problema? Fuoco negli uffici, dice Iger, a 650 gradi centigradi. Il NIST asserisce che ce ne fossero 980 ma di questo non c'è prova. Di fuochi d'ufficio a quella temperatura nelle torri gemelle del World Trade Center. L'infrastruttura di acciaio non comincia neanche a indebolirsi prima dei 1480 gradi centigradi. Ci mancano dai 530 ai 1090 gradi almeno. Un'energia tale da sprigionare quel calore. Ma da dove viene? Proviamo a cercare un possibile indiziato, la termite, che raggiunge temperature di 2480 gradi centigradi. Sentite John Ross, capo dell'ingegnere del NIST, che ci dice la sua idea sul metallo fuso. Innanzitutto, torniamo alla premessa basilare che ci fossero delle pozze di metallo fuso. So per certo che nessuno, nessun testimone, nessuno che lo ha riportato. Dovresti andare giù e vedresti acciaio fuso, acciaio fuso che scorre sotto nei canali, come essere in una fonderia, come la lava in un vulcano. Nessuno che lo ha riportato. Hanno confuso lampi e riflessi con acciaio fuso mentre lo piavano fuori. Nessuno che lo ha riportato. Sottoterra era ancora di acciaio fuso. Nessuno che lo ha riportato. Questi sono prodotti della fusione dell'acciaio, acciaio fuso. Nessuno che lo ha riportato. So per certo che nessuno, nessun testimone, nessuno che lo ha riportato. Nessuno che lo ha riportato. Le foto della NASA, le immagini termiche, mostrano questo livello di temperatura alle base. Qual è il problema qui? Qualcuno sta mentendo. Lascio a voi il giudizio. Traete nelle vostre conclusioni. E che dire delle prove chimiche? cosa ha prodotto tutto questo metallo fuso? E poi cosa è la termite? La termite è un elemento incendiario usato dai militari. È un composto di ossido di ferro e alluminio che, una volta innescato, produce una reazione ad altissima temperatura creando un metallo fuso. In solo due secondi la termite può raggiungere oltre i 2480 gradi centigradi. Temperatura sufficiente per liquefare l'acciaio. Il dottor Stephen Jones ha effettuato analisi chimiche sul metallo fuso. Gli era stato fornito un campione di metallo precedentemente fuso da 18 kg da uno di questi meteoriti. Ha scoperto che è per la maggior parte ferro, così può escludere che sia alluminio degli aerei. Si trovano minime quantità di alluminio, zolfo e potassio e manganese e fluoro in abbondanza. Il manganese viene dal potassio permanganato, comunemente usato come ossidante nella termite. Anche il fluoro è usato nelle cariche di termite a base di gel, per cui questa sembra essere l'impronta digitale della termite. I materiali super termitici sono gel esplosivi. Minuscole particelle di alluminio e oscido di ferro in un sol gel possono essere messe insieme, sono come un'argilla. Il laboratorio Lawrence Livermore ha fatto delle ricerche su questo. Quando vengono utilizzati i sol gel lasciano una traccia riconoscibile di fenilpropano 1,3 e di fatto l'ente per la protezione ambientale ha trovato nei suoi studi tossicologici che hanno surclassato tutti gli altri di fenilpropano 1,3. Eric Schwartz dice non l'abbiamo mai trovato da nessun'altra parte. Ma ci sono prove di termite nella polvere del World Trade Center? Il dottor Jones ha esaminato almeno quattro campioni di polvere del World Trade Center. Alcuni dell'appartamento di Jeanette McKinley dall'altra parte della strada, dove le finestre erano esplose riempiendo l'appartamento di polvere. Un altro campione prelevato dieci minuti dopo sul ponte di Brooklyn. Beh, avvicinandoci a una calamita si vede che ci sono delle particelle che vengono attratte. Alcune sono a punta, altre arrotondate. Assomigliano a queste. Di fatto, calcolando il peso delle sfere trovate nella polvere, si calcola, e ce ne devono essere state, circa dieci tonnellate. Misurano circa un millimetro e mezzo in diametro, le più grandi. Ma la maggior parte sono più piccole di un capello. Cosa può aver prodotto questa quantità incredibile di microsfere? Beh, avendo migliaia di cariche da taglio che esplodono nelle colonne e nelle travi per tutto l'edificio, sottoposte a una pressione incredibile, succederebbe qualcosa del genere. Decine di migliaia di minuscole goccioline. Qual è la forma di queste goccioline? Quando un liquido viene disperso in questo modo, la sua tensione superficiale gli fa assumere una forma sferica. Nel caso del metallo fuso, queste goccioline si raffreddano e cadono insieme alla polvere dappertutto. Il Dr. Jones conclude che data la presenza di metalli a così alte concentrazioni nella polvere come lo zinco, il rame, il manganese e la formazione di sfere ricche di ferro, è evidente che è avvenuta una significativa reazione alluminotermica. Ricostruendo il ritroso si può evincere che ci deve essere stato nella termite un misto di polveri di alluminio, ossido di ferro, ossido di rame e nitrato di zinco e potassio per manganato. Beh, che sia possibile trovare termite non ancora innescata nella polvere del World Trade Center? In effetti, è stata trovata. Viene attirata da una calamita messa vicino alla polvere, molte schegge. Questa è una inferiore al millimetro e mezzo, rossa su un lato, grigia sull'altro. Il lato rosso è composto di piccole particelle di ossido di ferro, alluminio e materiale organico. Il laboratorio Lawrence Livermore produce questa roba circa dal 2000. Essendo così piccole le particelle, consentono un innesco quasi immediato fra le due componenti chimiche, l'alluminio e l'ossido di ferro, dando luogo a esplosione. I laboratori di Los Alamos e Lawrence Livermore hanno compiuto delle ricerche sui materiali nanotermitici compositi. Poi continua i suoi studi e trova ulteriori schegge, parzialmente innescate, che contengono delle sfere. Chiaro lo scopo di queste sfere. Con il dottor Jones e il suo piccolo gruppo di scienziati, tramite la spettroscopia X, vengono identificati i componenti di queste sfere e schegge, come principalmente ferro, alluminio, ossigeno e silicio. È stato osservato del difenipropano 1-3. Lui afferma che i risultati, insieme a quanto osservato come lo scorrere del metallo fuso, è la prova certa che la termite fu deliberatamente posizionata nelle torri gemelle e nel palazzo 7. Questi risultati sono stati pubblicati da riviste specializzate. ora, tutto questo è una prova diretta di distruzione per esplosivi della torre 7. Vediamo solo il palazzo 7 adesso. Nessuna di queste caratteristiche può essere spiegata dal fuoco. figuriamoci un po' tutte quante insieme. Sentite cosa ha concluso la FEMA, veramente interessante. È la prova di un attacco all'acciaio dovuto all'alta temperatura, incluso una ossidazione rapida, una rapida ricopertura di zolfo e una fusione intergranulare. Molto interessante. Ricordate però, gli incendi normali non fondono l'acciaio. Allora cos'è che ha fuso l'acciaio, zolfo formatosi durante questa corrosione bollente sull'acciaio. Ecco la fusione intergranulare documentata per noi. Grazie. Capace di trasformare una solida trave d'acciaio in formaggio svizzero, come questa ex base di colonna dell'infrastruttura di acciaio del palazzo 7. Ora, questo è documentato in maniera particolareggiata nell'allegato C. I dettagli del fuoco nel World Trade Center 7 e come questo abbia potuto causarne la caduta rimane un mistero. Come? Un mistero? Al massimo l'ipotesi ufficiale, fuoco più struttura danneggiata e poi crollo, ha una minima possibilità di essere vera. Quale avallo degli esperti? Cosa dice Danny Joenko, esperto di demolizioni controllate da 27 anni? Comincia dal basso. Semplicemente hanno fatto esplodere i pilastri portanti. È una demolizione controllata, peraltro fatta da esperti. È un lavoro molto professionale, senza alcun dubbio. Palazzo 7. Esiste qualche conoscenza anticipata della sua distruzione? Sentiamo questi muratori che se ne vengono via dal palazzo 7. Questo poliziotto è ripreso dalla CNN. Avete sentito? Inquadrate quel palazzo, sta per venire giù. Il palazzo sta per esplodere, sta indietro. Stiamo arretrando. Il palazzo sta per esplodere. Fiamme, detriti che cadono. E Kevin McPadden cosa ha detto? Negli ultimi secondi ha tolto la mano e ha sentito 3, 2, 1. Conto alla rovescia. Significa che lo ci sapeva prima? Il fuoco fa cadere i palazzi con un conto alla rovescia? Mica tanto. Di fatto la BBC annuncia l'accaduto del palazzo 20 minuti prima che sia effettivamente caduto. È vero? Ecco Jane Stanley che lo annuncia. Dice, anche il Salomon Brothers Building di 40 piani vicino al World Trade Center è crollato, mentre lo vediamo in piedi dietro di lei. La BBC si scusa per questo spiacevole errore, attribuendone la causa alla confusione di quel giorno. Ma li rende preveggenti? Difficile. Mi sembra dimostrato che la caduta del Building 7 abbia tutte le caratteristiche di una demolizione controllata. È possibile che Al-Qaeda avesse accesso a quel palazzo? Che avrebbe dovuto essere uno dei più sicuri al di fuori del Pentagono. E se non sono stati loro, chi può essere stato? Risulta ancora più chiaro per le Torri Gemelle. Diamo uno sguardo dall'inizio. Quali sono le prove di questo? E come sono state prodotte? Prodotte da questi suoni e lampi delle esplosioni? 118 pompieri sono testimoni di lampi delle esplosioni. Circa a metà del World Trade Center c'era questo lampo arancione, rosso, che veniva fuori. All'inizio solo un flash, poi ha cominciato a saltare fuori da tutte le parti e il palazzo ha cominciato a esplodere. Come quando in tv vedi far crollare i palazzi, sembrava come se ci fosse una cintura tutto intorno, con tutte quelle esplosioni. Boom, boom, boom. Quando ho sentito venire giù il palazzo, ho visto dei piccoli flash. Abbiamo sentito dei veri scoppi, sai, scoppi del palazzo. E ha esploso verso l'esterno, da tutti e quattro i lati. Cos'hanno rilevato questi ragazzi? Piano dopo piano ha cominciato a saltare verso l'esterno. È stata come una detonazione pianificata. Per tirare giù il palazzo, boom, 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 dritto verso il basso. E i giornalisti? Cos'hanno riportato? Di solito dicono la verità il primo giorno, poi non sentiamo più la verità. Che succede alla verità? Chiunque sa come si faccia a far crollare un palazzo, sa che per farlo devi raggiungere la sua infrastruttura interna per farlo crollare. Il vero palazzo è appena crollato, come in un caso di demolizione di un vecchio edificio. Si ripiega su se stesso e adesso non c'è più. Ho sentito una seconda esplosione e poi un altro boato. Un'enorme esplosione che ci scarica addosso dei triti. Meglio filarsela. E per tutto questo tempo c'è stata questa grossa, ce n'era un'altra grossa, grossa. Un'ora dopo quella ce n'è stata un'altra molto inferiore. Hai capito se era un'esplosione o il crollo di un edificio? Mi è sembrata un'esplosione, ma un'esplosione enorme. Il capo Albert Turi disse che ci fu un'altra esplosione e un'altra un'ora dopo in una delle torri. Perciò, secondo questa teoria, lui pensa che ci fossero cariche piazzate e controllate nell'edificio. E' stato proprio un babboom, come quando una bomba esplode. Poi un'altra esplosione e tutto stava volando. Sembravano come spari, bang, bang, bang. E all'improvviso tre grandi esplosioni. Sono circa tre isolati lontano quando ho sentito le esplosioni, i tre tonfi. Un'enorme esplosione. Ancora una volta, nessuna di queste esplosioni fa parte della versione ufficiale. Adesso, confrontate queste esplosioni con una nota sulla sinistra. stelle filanti verso l'alto e verso l'esterno. Volumi spettacolari di polvere, simmetriche come un fungo. Vi sembra una caduta dovuta alla forza di gravità? Osserviamo la torre nord adesso. Vi voglio far osservare alcune esplosioni, abbastanza curiose, in cima al palazzo. E quello che sta per succedere è che questa intera parte si accartoccia in modo tale che la sua metà superiore si distrugge ancora prima che ci sia un effetto dell'impatto dell'aereo sotto. Guardiamo meglio. Ecco qui la prima prova di esplosione. E poi anche qui. E il crollo. Di certo le nuvole violente vengono fuori prima dello scoppio. Diamo un'occhiata da vicino. Osserviamo meglio. Nuova sorgente di carburante che potrebbe essere quello dei jet, non ancora bruciato, rivitalizzato dall'ossigeno. Vediamo ancora un po' più da vicino. Ecco. Alcune nuvole che si formano qui. Aspetta. Ci si aspetterebbe il crollo proprio qui. Il danno al palazzo è asimmetrico, giusto? L'aereo è entrato da un lato e ciononostante questo crollo è completamente simmetrico. E avanti. Ecco un'altra volta. Cinture, come hanno detto i pompieri, tutto intorno al palazzo. L'antenna cade per prima. Cade prima di qualunque altra cosa. Il che indica che il danno ai pilastri è avvenuto per primo. Ora, guardate lo stesso palazzo visto dal basso. Notare la violenza sotto la nuvola a forma di fungo. Ci si aspetterebbe che il crollo partisse dal basso. Ma giù in basso, come vedrete in questa seconda scena, quantità incredibili di getti di detriti provocate delle esplosioni che saltano fuori. E per la terza volta vorrei richiamare la vostra attenzione a questa serie di esplosioni, in rapida successione, giù lungo il lato destro e l'angolo del palazzo. Circa 40 piani sotto il crollo del palazzo. Dopo un po' l'evidenza comincia a far male, vero? Esiste una caduta diretta verso il basso, simmetrica e fuori dalla pianta del palazzo? La FEMA ci dice che il palazzo era largo 63 metri. E vedete in questo documento che abbiamo un campo di detriti largo 360 metri, a distanza uguale, in ogni direzione da ciascuna torre. Impatto asimmetrico, distribuzione simmetrica tutto intorno al sito. Abbiamo getti isolati ad alta velocità di polvere, forse causati dalle esplosioni? Qualcuno immagina che queste siano esplosioni perfettamente sincronizzate. In tutti i video dei crolli si possono evidenziare scoppi da 20 a 30 piani sotto il fronte d'onda del crollo. Qui 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 Qui, 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 e qui. Ora, il NIST ci dice che sono sbuffi di aria causati dalla pressione del palazzo che crolla come in un pistone. Deve pure uscire da qualche parte, giusto? Bene, prima di tutto non sono sbuffi di aria, sono sbuffi di materiale polverizzato. E avvengono a una velocità che varia da 175 a 220 km all'ora. Queste velocità si spiegano solo con esplosivi. 20, 40, perfino 60 piani sotto. Come si può spiegare questo con l'effetto pistone? E di fatto c'erano queste emissioni concentrate che avvengono a metà via fra gli angoli del palazzo. Abbiamo un'accelerazione vicina a quella di caduta libera lungo quella che era la traiettoria di maggior resistenza? Le torri gemelle sono venute giù con un'accelerazione, due terzi di caduta libera. Che significa questo? Che i pilastri dovevano essere eliminati e nello stesso momento su ogni piano in modo sincronizzato, in modo da non offrire alcuna resistenza nella caduta. Dov'è il palazzo di 15 piani che trascinava giù l'intero edificio con l'accelerazione pari a circa due terzi quella di caduta libera? Nei primi due secondi si vede come abbia ridotto la sua massa a metà, scoppiato. Non poteva essere utilizzato per accelerare la caduta verso il basso del resto dell'edificio. Nei due secondi successivi, dopo quattro in tutto, si è distrutto. Non c'è niente che schiaccia l'edificio. Si sta sfracellando a circa due terzi l'accelerazione di caduta libera e sta smembrando l'infrastruttura di cemento. Di fatto, il fronte d'onda di queste nuvole di polvere a forma di fungo sono carichi di colonne perimetrali, particelle di alluminio e altri materiali ferrosi. Guardiamo la torre sud, come si è sfaldata. La torre sud è alla vostra sinistra. È stata colpita più in basso dall'aereo. E come potete vedere, la sua distruzione rapida comincia lì e comincia a farla pendere a sinistra. Noi ci aspetteremo di vedere questo palazzo già inclinato di 22 gradi. Sta continuando il suo movimento angolare fuori asse rispetto alla parte sotto. Ma come fa a rimettersi in asse a circa due terzi dell'accelerazione della caduta libera se sta già uscendo dalla sua pianta? Però vediamolo dal basso. Abbiamo un danno asimmetrico. Però c'è questa distruzione simmetrica al di sotto della nuvola. Tutto intorno al palazzo, come hanno riferito i pompieri, anche se questa massa dall'alto sta cadendo sopra. Abbiamo qui delle espulsioni laterali di acciaio dell'infrastruttura? Il danno non è contenuto. Le finestre dei palazzi vicini esplodono. Ma che tipo di energia può aver provocato questo? Qui un pezzo di acciaio è stato lanciato a 120 metri e si è incuneato a fondo nel palazzo 3, a Vesie Street. E i piani? Quelli che si sarebbero schiacciati uno sull'altro con effetto pancake? Dov'è qui l'effetto pancake? Cerchiamolo questo pancake giù in fondo. C'è una lobby di 7 piani. Ci sono circa 2 o 3 piani di roba qui. Ma quello che vorremmo trovare sono 110 piani con questo tipo di metallo sommersi da 12 cm di cemento. Di dimensioni di mezzo ettaro. Ciascuno di loro, insomma, 50 ettari. Quanti piani troviamo alla fine? Non 50. Non 10. Neanche uno. Non si trova neanche una pila di metallo o di cemento lì alla fine. Ma la pena qualche microscopico pezzettino di cemento. Cosa ne è stato dell'infrastruttura di metallo? Cosa ne è stato del cemento? Cosa è successo al cemento? Il cemento si è polverizzato. Ero lì martedì. Ed era come essere su un pianeta alieno. Tutta la parte bassa di Manatta, non solo qui, da fiume a fiume, era tutta piena di polvere, almeno 5-6 cm. Tutto questo è la prova diretta di una distruzione da esplosione. E niente di tutto questo può essere spiegato con il fuoco. Abbiamo la conferma degli esperti? William Rice, ingegnere strutturale dell'Associazione Architetti e Ingegneri per la Verità, sull'11 settembre, dice La versione ufficiale vuole farci credere che ciascuna delle torri gemelli in qualche modo sia crollata su se stessa, schiacciando tutti i 287 pilastri di ogni piano, mantenendo nel contempo un'accelerazione da caduta libera, come se le oltre 100.000 tonnellate di acciaio dell'infrastruttura di supporto sottostante non esistessero neanche. E sentite David Scott. La velocità di caduta pressoché libera viola le leggi della fisica. Questo suggeriscono tutte le caratteristiche di una classica demolizione controllata, tranne qualche eccezione non tipica delle demolizioni controllate. Nessuna di queste caratteristiche può essere spiegata dagli incendi. Figuriamoci tutte e dieci insieme. Questa si chiama prova oltre ogni ragionevole dubbio. L'abbiamo dimostrato oggi che furono utilizzati esplosivi per distruggere i tre grattacieli dell'11 settembre. E si sa che occorrono mesi di pianificazione per mettere in piedi ed ingegnerizzare e sistemare questi esplosivi. Pensiamo forse che Al-Qaeda avesse accesso a questi palazzi ad alta sicurezza? Moltissime grazie per la vostra attenzione. Grazie mille. Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!